Guarda Vidal, 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 il tiro! Parte il cross in mezzo sul primo palo, il tiro, Zecco, GOOOOOOOL! È di... ZECCO! 1-0, sempre lui, sempre lui, sempre lui! Sì, e la sblocca! E vabbè, è un risultato per gol, minchia! Grande di Zecco, di sinistro, di Marco, allunga Vidal di testa! Sul secondo palo, ed in Zecco, di sinistro, di piatto, la mette all'incrocio e questa volta Yashin nulla può. E la sblocchiamo al 34esimo e andiamo Edin, sempre lui, altro che titolare Sanchez, Edin Zecco e la ficca anche lui, sempre! E non c'è il recupero, finisce qui i primi 45 minuti, 1-0 per noi, 1-0 per noi! No, gioca come terzo, sì, sì, scusa, ho letto terzino, come terzo di difesa al posto di bastoni. E sta facendo una bella prova, una bella prova. Gran gol di Edin Zecco, che ci fa esultare, finalmente! Adesso, voce ai vostri commenti su... Finta il tiro... Tiro in porta rete! Rete? No. Ma incredibile! Ma che cazzo è? Con l'ussemburghese, ma che cazzo è? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile che questi qua su punizione la mettono alle... Ma porca madonna, guarda! Incredibile, incredibile, oh! Mamma mia! Ma non è possibile! Non è possibile! Non ci arriva Andanovic! Che la prende con la mano! Ma non riesce a buttarla fuori, entra in porta! Guarda Vidal! Vidal, 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 Vidal! Il tiro! Rete! Vidal! Vidal! E Turito, Vidal! La mette dentro e sono 2-1! Proprio lui! Vidal! Su assist diede in Zecco! Vai Arturito! 2-1! Cazzo! Sti cazzo di sceriffi di merda! Dai, Arturo! Brozovic per Zecco! Vede Vidal con il filtrante! Sul primo palo il portiere! Para! Ma non ce la fa! Di sinistro! Vidal! Dai che è su! No! Dai! La mette sul secondo palo di testa d'Ufri! E Zecco ancora! E sono 3! E sono tanti! Anzi no! De Frey! De Frey! Stefan De Frey! La mette! E sono 3! E sono 3! Con assist di testa di Dufris! Dufris! E andiamo! E sono 3! 3 pappine agli sceriffi! 3 pappine agli sceriffi! Stefan! De Frey! Su torre di Torello Dufris! Rivediamo! Sul secondo palo Dufris salta! Sponda! Di destro! Nell'area piccola! Da attaccante! Qui il portiere è un po' un riflessi un po' Balordi! Bravo Dufris! Su secondo palo a fare questa sponda! Bravo Torello! Bravo Torello! Si allarga! Per Sanchez! Sanchez! Che sbaglia il passaggio! Tutte le giocate che poteva fare Sanchez le ha fatte male! Finisce qui! Finisce qui! Missione compiuta! Bella mi piace questa! 3 a 1 per l'Inter sullo sheriff! E meno male! Meno male! Spazio! Ai vostri commenti! E meno male! E meno male! E meno male! Se si a che... Grazie a tutti.